Siamo in un campo, quello dell'orto, delle verdure, delle erbe aromatiche che è spesso poco conosciuto e quindi dovrebbe essere da un lato approfondita la conoscenza di questo settore e anche avere la consapevolezza che per esempio si possono coltivare le erbe aromatiche nel ristorante, anzi si è addirittura parlato di renderle in qualche modo obbligatorie, che l'orto sia tra virgolette obbligatorio per ogni chef del futuro. In ogni caso anche la consapevolezza è legata alla solubilità del prodotto perché poi utilizzando questi prodotti che magari si possono ricavare nello stesso ristorante o da una catena conosciuta, da una filiera conosciuta, si possono usare anche prodotti più salubri rispetto a quelli che invece hanno un'origine misteriosa. Riscoprire le origini, in realtà molto di quello che noi usiamo oggi ci proviene dal passato e di questo bisognerebbe avere una consapevolezza che spesso non c'è. Ribadisco la salubrità, oggi quanto mai è importante, è un concetto fondamentale anche nella ristorazione e poi la pratica, cioè sporcarsi le mani, quindi piantare le mani nella terra.